allora parliamo subito con la lettura del disclaimer vi ricordo che investimenti con scambio margine comportano notevoli rischi economici e chiunque li svolga lo fa sotto la propria ed esclusiva responsabilità pertanto gli autori della presente sessione didattica non si assumono nessuna responsabilità circa eventuali danni diretti o indiretti relativamente a decisioni di investimento prese dai ascoltatori ok ci siamo ragazzi buongiorno buongiorno a tutti siamo in compagnia di andrea di marco andrea buongiorno abbiamo qualche posizione in macchina che farà sto euro dollaro intanto si è rimesso si è rimesso negativo sotto il valore di apertura giornaliera sotto il valore di apertura settimanale mensile eccetera vedete euro dollaro ritorna a manifestare trend di bassista quindi c'è ancora debolezza possiamo aprire il grafico notiamo come il mercato oggi si sia tenuto prevalentemente al di sotto del livello di apertura vedete siamo ancora sotto siamo negativi in questo momento perde lo 0 12 per cento mercato che continua in rendere i bassisti giustamente scusate qui abbiamo delle proiezioni andiamo a chiudere tutto quanto andiamo a chiudere tutto close all ok vuoto andiamo a cancellare anche gli ordini pendenti delete all pending benissimo allora scusate un attimo ma c'è andrea che ha un problema lo chiamo un secondo su skype credo ci sia qualche problemino di comunicazione a volte capita poi noi siamo particolarmente fortunati queste cose ci capita sempre niente andrea non risponde neanche su skype a posto bene benissimo ma va bene va bene per parte del gioco si sta temi sei in tenerife luca ciao a davvero sei andato in tenerife allora niente ragazzi vediamo se se andrea riesce riesce a rientrare perché citerei ad avere un po' una sua panoramica andrea è partners del broker alb ok quindi ne assume un po' diciamo così le sue voici oggi però quanto ecco 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 ritornato andrea lo mettiamo come pannellista ok andrea abilita pure il microfono abilita il mic andrea eccoci mi senti ok sì sì perfetto che è successo qui la linea è andata via di colpo internet anche in spagna sì abbiamo vodafone è andata via di colpo ho visto il modem che vuoto il buio esatto esatto mi scuso con i telespettatori è il bello della diretta esatto 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 come stai tutto bene tutto bene qui monitorando un po' i mercati e devo dire che questo inizio 2019 un inizio molto molto positivo e molto interessante in realtà quindi che cosa vedi in generale andrea io ho visto molti tuoi video tu ti occupavi di una rubrica in cui si parlava soltanto di dax fai operatività di breve nel senso va tu sei anche trader giusto sì 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 ok diciamo che io mi muovo molto su sugli indici su sull'oro sul petrolio mi piace poi lavorare con le opzioni classiche ovviamente faccio ovviamente forex do un'occhiata molto soprattutto al dollaro canadese all'asterlina allo yen quindi ci muoviamo un po' a 360 gradi insomma noi qui con il mio gruppo di lavoro cerchiamo chi mette un'idea chi mette un'altra idea poi alla fine si cerca di tirar fuori a fine mese un bel tornaconte insomma certo 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 come ti sembrano i mercati oggi no oggi la partenza devo dire che è una settimana secondo me è piuttosto con una partenza piuttosto stabile il dax in questo momento fase laterale c'è molta forza su sull'oro nelle ultime sessioni abbiamo perso la quota dei 1300 quindi più volte l'abbiamo segnalato 1304 in particolare e ovviamente siamo un po' tutti in attesa dei dati a partire proprio da domani ci sono gli ADP poi giovedì parla Draghi venerdì ci sono i non fan per Ols quindi è ovvio che in queste due giornate qui di inizio settimana è una settimana che si inizia con molta molta tranquillità a prescindere da questo comunque sia soprattutto su diversi asset vedo una volatilità piuttosto interessante proprio per per un trader insomma retail quindi c'è possibilità di muoversi ecco ok il tuo amato dax guarda il mio amato il mio amato dax in questo momento qui secondo secondo me in questo momento qui sta facendo un ritracciamento piuttosto interessante abbiamo dato un long questa mattina e fin quando comunque sia non andiamo sotto 11.550 non andiamo short nel senso che comunque 11.550 11.525 sono secondo me i livelli in cui bisogna poi entrare al ribasso sostanzialmente rotti questi livelli si va al ribasso altrimenti rimaniamo stabili un po' con la view di medio periodo in cui mettersi short è veramente difficile perché a parte sporadiche situazioni come quella di ieri diciamo secondo me i trade sul dax anche a livello giornaliero bisogna prediligere un po' intorno al 70-80% gli acquisti piuttosto che le vendite dal punto di vista di medio lungo periodo secondo me da qui a due mesi due o tre mesi comunque sia avremo un dax che si muoverà in un'enorme fase laterale un'enorme fase laterale vuol dire che compresa tra i 12.100 e 10.900 e 10.800 quindi difficilmente vedremo un dax che ci darà grosse soddisfazioni sul lungo periodo per un acquisto diciamo di ampio respiro ecco quindi sarà un dax più per trade giornalieri e settimanali va bene va bene ragazzi se volete fare qualche domanda Andrea è a disposizione intanto Luca sì tutti anziani poi me la racconti questa poi me la racconti bene con calma ok Andrea che notici ci porti da parte di Alb? ci sono novità? sì allora sì 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 assolutamente novità da da alb.com slash it vi invito a provare un attimino la loro piattaforma demo perché in questi mesi che verranno avremo un ampio un ampio pano un ampio calendario per quanto riguarda i webinar sostanzialmente e faremo delle video analisi giornaliere per dare per cercare di dare ovviamente sempre una mano a tutti i vari traders con varie sessioni miste quindi partire proprio da un'analisi più dove combiniamo analisi tecnica analisi fondamentale e live trading come la sessione ad esempio di oggi dove cercheremo di dare proprio spunti operativi sul mercato poi abbiamo una sessione di trading academy piuttosto interessante per chi magari diciamo agli inizi e vuole un attimino fare un percorso di crescita io con i ragazzi del desk di Alb stiamo proprio preparando questa formazione tra pochissimo la pubblicheremo anche sul sito internet come sapete grazie alla partnership che c'è con MQL Suite aprendo un conto con Alb potete ovviamente ottenere anche la MQL Suite quindi sotto questo punto di vista stiamo iniziando proprio abbiamo iniziato proprio da qualche giorno un ciclo proprio di eventi che ci porterà da una parte formazione quindi tanta formazione e dall'altra tante strategie operative per poter ottimizzare un po' le performance sui mercati insomma bene bene tutto sommato stavo vedendo un po' il sito ci sono anche le analisi di AutoChartist vedo sì diciamo che in questo momento qui stiamo facendo un grande lavoro di sviluppo del sito cercando di renderlo anche più con dei tool più interessanti proprio per il trader e cercare ecco di mettere a disposizione un po' dei tool che possano quindi come la vista del mercato come la riproduzione del webinar come il calendario economico i webinar sì quelli sarebbero una bella cosa avere la possibilità di rivederlo direttamente dentro lo sito sarebbe una cosa interessante sai sì sì assolutamente questa è un'implementazione a cui stiamo lavorando poi tra l'altro i ragazzi del desk mi hanno confermato anche che al 99% saranno anche a Rimini una cosa che mi piace sempre sottolineare è che alla fin fine di broker ce ne sono tanti però di broker che danno comunque a disposizione un supporto in italiano e la possibilità comunque di operare direttamente sul mercato ce ne sono pochi quindi secondo me oggi come oggi scegliere un broker non è facilissimo e quindi sotto questo punto di vista io personalmente vado più che sugli spread vado sicuramente sul supporto e ovviamente sulla trasparenza e la solidità del broker in questo caso qui con Alba avete dei punti a favore sicuramente e ovviamente a parte il DAX secondo me ha delle condizioni molto interessanti su un po' su tutto il forex e soprattutto su quello che secondo me sarà l'asset 2019 che è l'oro e ha francamente uno spread imbattibile sotto questo punto di vista ecco hai detto bene oro 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 secondo me l'oro proprio ieri ha toccato un livello molto 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 interessante chi mi ha diciamo così spinto a valutare operazioni di tipo di arcista come lo vedi l'oro Andrea? guarda l'oro io personalmente diciamo ho una strategia forse faccio un errore perché sono troppo innamorato dell'oro nel senso che personalmente io lo comprerei sempre l'oro e lo comprerei anche ma proprio a livello fisico quindi comprerai proprio a livello fisico il punto il punto qual è? è che l'oro a 1285 che è la votazione attuale secondo me lo si può comprare tranquillamente a 1200 se scende a 1250 ancora meglio lo si può continuare a comprare ovviamente bisogna poi capire quella che è la strategia che noi andiamo a realizzare se andiamo a realizzare una strategia di lungo periodo io personalmente compro oro nel breve brevissimo periodo ho anche la possibilità di vedere delle giornate o anche magari delle settimane come le ultime sessioni che abbiamo visto sull'oro e la possibilità comunque anche di speculare al ribasso quindi di coprirci un attimino dalla volatilità la cosa buona dell'oro è che oltre ad essere comunque diciamo a livello fondamentale un po' sulla bocca di tutti quindi comunque sia anche per i meno esperti è più facile da da iniziare a lavorare da iniziare a capire meglio quali sono le dinamiche che spostano un po' il prezzo che muovono il prezzo dell'oro e sicuramente in questo caso qui avete l'opportunità di lavorare su un'analisi tecnica ancora molto più semplificata perché comunque l'oro generalmente lavora su diciamo su dei livelli molto prestabiliti 1200 1300 1250 1350 quindi già da già da dei riferimenti molto importanti e quindi sotto questo punto di vista non è magari un euro dollaro che si fa sempre più difficoltà di individuare magari supporti resistenze o comunque sia dei partner grafici importanti insomma quindi c'è una serie di condizioni che dal mio punto di vista sia per chi sta iniziando sia per chi comunque già a livello medio alto mi portano comunque sia a spingere a lavorare sul world insomma Andrea tu mi hai detto che fai anche opzioni se se dovessimo acquistare oro con cosa potremmo coprirci a livello di opzioni con cosa ti copriresti guarda se dovessimo acquistare acquistare oro le opzioni qui apriamo un mondo sostanzialmente diciamo che le piattaforme che danno opzioni sono molto poche generalmente sono piattaforme americane generalmente che danno la possibilità di coprirci proprio sulle con opzioni e in questo caso qui bisogna bisogna capire una cosa fondamentale evitiamo di vendere opzioni perché lì abbiamo un rischio illimitato quindi partiamo da questo da questa premessa ok per evitiamo di vendere opzioni sia che siano delle call sia che siano delle put quello che noi facciamo è comprare delle delle opzioni possiamo comprare delle call o possiamo comprare delle put cosa vuol dire vuol dire che io in questo momento qui posso scegliere una una put con strike price esattamente al prezzo di mercato quindi compro una put al prezzo di mercato il mio rischio sostanzialmente è il premio che pago per quella per quella put sostanzialmente cosa vuol dire vuol dire che se io mi aspetto magari che loro fa un un rialzo magari di 10 20 30 dollari da qui a 10 15 giorni anche un mese il mio il mio guadagno in questo caso qui il mio profitto sarà dato dalla differenza che avrò prodotto tra questi 30 dollari di di rialzo meno il costo del premio che ovviamente ho pagato per coprirmi quindi è sicuramente una modalità per per andare a coprire le posizioni al rialzo una cosa abbastanza importante è cercare sempre di capire a livello proprio sulle opzioni più tardi alle ore 19 abbiamo un webinar sul mio canale e di capire sempre che le gli acquisti sulle opzioni hanno rischio limitato al premio le vendite hanno rischio illimitato quindi questa è la più grande distinzione poi si possono combinare diverse diverse strategie insomma sì 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 io tanto stavo smacchinando con MQL Suite ho messo il comando automatico di autoslide che gira che fa cambiare tutti i grafici ogni 10 secondi in automatica e questa è una delle cose che più adoro dalla serie si vede che sono pigro e quindi voglio che in automatico praticamente cambino tutti i grafici Andrea stai usando un pochino MQL Suite sì lo sto usando ti devo essere sincero da pochissimo perché io personalmente diciamo sono un po' vado sono un po' un trader di pancia quindi mi muovo molto con con un po' strategia discrezionale trader di pancia io so che tu lavori bene DAX come lavori supporti resistenze cosa osservi quali sono i tuoi parametri di base che ti permettono di iniziare a costruire un'idea se rialzista o ribassista guarda personalmente io ho sempre diciamo amato la metatrader per un motivo perché anni fa era l'unica piattaforma che ti permetteva di cambiare la deviazione standard sulle bande di di bullinger sostanzialmente sì e questo cosa vuol dire che io lavoro con un grafico pulito perché alla fine mi sono accorto che è inutile lavorare con tanti indicatori con tanti con tanti con tante cose con tanti strumenti lavoro con un grafico veramente molto pulito l'unica cosa che inserisco è proprio una banda di di bullinger i cui parametri sono 10 e 0,2 sostanzialmente quindi ragazzi proviamo a ricreare il setup di andrea quindi grafico pulito bianco o nero io ce l'ho blu scuro blu scuro bianco ok bande di bollinger quindi i parametri 10 bollinger band eccolo lì 10 sì e la deviazione 0,2 0,2 0,2 così sì ok ah ti crei tipo un canale di keltner giusto occhio e croce occhio e croce esattamente ok e i target in questo modo come li definisci guarda allora ad esempio sul DAX abbiamo dei target andiamo a prendere andiamo a prendere proprio il DAX sì ok voilà quindi cosa aspetti ovviamente il superamento di questa sorta di canale no guarda a provare long sì esatto esatto diciamo che non sei un compratore di minimi o un venditore di massi giusto? no no io cerco sul DAX cerco sempre di anticipare bisogna secondo me sul DAX anticipare il trend perché con la volatilità che ha il problema e poi lo stop loss il problema quindi il problema del DAX che avendo tanto rumore anche se metto 40 vado long metto 40 punti di stop loss che già sono tanti per un intraday e comunque sia anche con un minimo di rumore come si dice con un soffio di vento ci prende lo stop e poi magari il trend va va a rialzo quindi che è la cosa poi peggiore per il trader sostanzialmente quindi esatto vedersi stoppato e poi sì è la cosa veramente diciamo più più difficile da da sopportare ad esempio se ti sposti in un H1 io utilizzo molto l'H1 utilizzo sì per chi magari volesse fare un trading più più leggero diciamo la strategia di base è veramente veramente molto molto semplice qui siamo in una condizione di possibile pullback sì qui siamo in realtà qui siamo in una condizione stiamo toccando proprio la volatilità stiamo toccando quindi in questo caso qui a livello orario dobbiamo attendere una candela pulita o al di sopra o al di sotto di questo di questa candela qui che si sta formando sì quindi al di sotto una chiusura ti aspetti una chiusura al di sopra per poi valutare l'ingresso sì esatto io non guardo tanto massimi e minimi perché poi la volatilità sui massimi e minimi è abbastanza piena di rumors io guardo più che altro le aperture e le chiusure ad esempio se vai sulla candela della candela della candela in questo caso H1 o della giornata o della settimana eccetera guarda ti faccio proprio un esempio per chiarire se vai nella giornata alle del 28 di febbraio c'è un esempio molto chiaro c'è un esempio sì esattamente vedi che tra le 10 e tra le 10 e le e le 12 c'è proprio una fase di di congestione sulla volatilità c'è una fase poi la candela successiva vedi che sono due candele praticamente pulite che sono aperture e chiusura sono al di sopra tutte al di sopra sì esatto e molti qui vedendo la doji magari si rimettono short in questo caso qui vedendo una potenziale doji io invece qui vado a comprare direttamente al mercato quindi mi vado ad anticipare sul trend mi vado ad anticipare e lo stop praticamente lo vado ad inserire in questo caso qui ovviamente con i dovuti rapporti delle sites del capitale sul conto quindi con tutte queste dovute accortezze lo vado ad ogni modo ad inserire praticamente sul minimo della candela che era dentro la volatilità quindi in quel caso lì esattamente al livello se tanto mi da tanto sul livello di 11.454 questa zona qui questo minimo è anche più alto e anche più alto anche un po' più alto anche qui sì in quella zona lì e diciamo che poi va in funzione di cosa della sites che utilizzate e ovviamente della distanza rispetto al vostro prezzo di acquisto quindi in questo caso qui se ho un primo livello di stop loss 11.450 e il mio ingresso è 11.470 sono circa una ventina di punti di stop loss che più o meno come strategia intraday mi può essere valido poi ovviamente posso anche valutare di mettere un po' più in basso per non stare troppo stretti in automatico poi mi vado a calcolare il livello di di take profit nel senso che se utilizzo ad esempio 30 punti di stop loss almeno metto 60 punti di take profit Silvia dice anche io utilizzo le bande le uso con periodo 9 e deviazione 1 è un setup abbastanza simile Andrea usa 10 0 2 cambia guarda la differenza in questo caso qui quando tu inserisci comunque una deviazione 9 e 1 vediamo vediamo che tipo di è un po' diverso come setup tende più a fare contenimento il problema delle bande secondo me 1 quando andiamo al di sopra dell'1 come deviazione e il problema è che molte volte almeno questo è stato il mio il mio personale e magari arriviamo magari sulla banda superiore e non sappiamo se li vendere o comprare sostanzialmente certo certo è quello un po' diciamo a me personalmente sì 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 Andrea anch'io anch'io Silvia te lo dico giusto per mi sono sempre un po' trovato in difficoltà con le bande di Bollinger però attenzione non è detto cioè per me funzionano non funzionano bene secondo il mio carattere il mio atteggiamento una mia aspettativa perché mi fanno da limitatore purtroppo mi bloccano mi bloccano un po' che tiro la visuale ho sempre fatto fatica con le bande di Bollinger perché appunto le trovo un po' come delle calze un po' strette che uno deve Andrea invece la soluzione che usa Andrea quindi come canale come separazione forse per le mie esigenze potrebbe essere un pochettino più conveniente perché perché a un certo punto libera l'aspettativa non è come una semplice banda di Bollinger che voler purtroppo tende un pochettino a contenere il prezzo e quindi anche psicologicamente nel momento in cui si tocca la parte alta o la parte bassa si è portati ad avere una determinata tipo di reazione sì esatto un po' il diciamo lo scontro psicologico insomma che io personalmente ho sempre avuto quando utilizzato un po' le bande di Bollinger che premetto che secondo me rimangono a livello di comunque sia di indicatori oscillatori secondo me rimangono il migliore strumento rimangono però bisogna saperlo un po' settare in funzione poi di quello che uno trada se magari io sono più portato a tradare fasi laterali o sono più portato a tradare fasi di tendenza sostanzialmente quindi questa è anche una differenza piuttosto importante io personalmente questa combinazione qui a me mi ha dato un po' un aiuto veramente importante perché comunque poi ci sono operazioni che vanno in stop loss operazioni che magari quelle dopo ci sono sempre sono sempre quelle però effettivamente personalmente mi ha sempre dato una view significativa perché in un attimo ho il termometro del mercato si riesce a farti un'idea è vero su questo sono d'accordo ti danno un'idea molto istantanea perché perché uno si fa subito un'idea di quelli che possono essere i supporti possono essere le resistenze eccetera eccetera sì discutibilissimo argomento sicuramente interessante appunto come avete visto poi ognuno c'è i suoi set up con i suoi settaggi io ho cambiato però un pochettino opinione e atteggiamento da quando ho iniziato a lavorare con i livelli percentuali che sono appunto il percentivo eccetera il mercato secondo me è cambiato completamente perché adesso come metro di misura ho i valori di rendimento non più uno strumento dinamico come potrebbe essere la banda di Bollinger che giustamente si allarga si stringe si fa ma uno strumento diciamo così statico e oggettivo su un elemento importante che è il rendimento dello strumento sì questo guarda è alla fin fine secondo me è anche una questione di 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 ottimizzazione nel senso per me fare trading è una parte complementare della mia vita io ovviamente non sto tutto il giorno lì a fare trading perché altrimenti a livello mentale comunque sia è abbastanza difficile essere trader al full time quindi per me il trading lo vivo cerco di viverlo in una forma diciamo positiva e la domanda che sempre mi sono fatto è quale strumento mi permette di fare una fotografia rapida del mercato senza farmi condizionare magari dalle notizie del mercato dal calendario macro e da cose di di questo genere ovviamente molti utilizzano supporti resistenze su livelli di pivot point magari si guarda il macd si guarda magari un rsi effettivamente sono tutti strumenti più o meno più o meno validi però quello che a me piace è il trading bisogna semplificarlo bisogna semplificarlo quindi per me semplificare il trading perché alla fine poi io non credo ai segnali di trading non credo a chi mi fa il 300% non credo a chi magari mi dice che lavorare sul DAX si lavora meglio sul DAX piuttosto che sull'oro piuttosto che sull'SP500 quello che sì magari credo è che ognuno di noi ha una mentalità una psicologia ognuno di noi deve trovare il vestito giusto con le taglie giuste quindi bisogna provare una serie di strategie semplici e poi in funzione dei risultati ovviamente e della gestione proprio delle posizioni del money management possiamo più o meno andare su una o sull'altra insomma è giusto è giusto ognuno poi è giusto che trovi la sua via diciamo bisogna imparare le cose di base però puoi riuscire a personalizzare in modo tu fai trading tipo intraday o multiday Andrea mi dicevi delle opzioni eccetera guarda io ho strategie combinate nel senso mi piace muovermi tanto sull'intraday sul DAX e sull'oro e poi faccio opzioni settimanali più o meno e poi però faccio anche mi piace anche andare a scovare azioni da comprare quindi anche sul medio lungo periodo e quindi fare un po' di value investing e valutazioni di di questo genere insomma quindi alla fin fine penso che la diversificazione nel molti parlano di trading ma in realtà qui con ALB si vuole fare un discorso di dire guarda noi ti vogliamo far capire come gestire una percentuale dei tuoi risparmi perché poi magari su 100 che noi abbiamo 60 li lasciamo in liquidità magari 20 ci compriamo delle obbligazioni e magari 10 ci andiamo a comprare dei titoli che replicano il mercato al 100% e magari un altro 10 lo possiamo diversificare su prodotti dinamici su prodotti un po' più aggressivi per cercare di creare questo extra rendimento anche perché se ci affidiamo solo magari a un fondo i fondi oggi fanno meno dell'1% se ci va bene quindi francamente anche i gestori di fondi si trovano in difficoltà quindi quello che noi vogliamo fare vogliamo costruire un percorso con con alb vogliamo costruire che ti permetta di avere in primis educazione finanziaria quindi una certa conoscenza dei mercati e degli strumenti e poi ovviamente la possibilità di poter di poter investire con un certo criterio essendo consapevole di quello che si fa sostanzialmente alla fine Fabio tu tu che lavori molto nel forex sai benissimo noi già essendo nell'area euro ad ogni modo in fin dei conti noi siamo dei compratori di euro per default perché comunque sia paghiamo in euro magari riceviamo uno stipendio in euro e quindi già come se per default siamo long di euro quindi lavorare poi magari su su strumenti come euro dollaro o euro sterlina ci permettono comunque sia di coprirci proprio dalle fluttuazioni del dei vari cambi insomma è vero è vero è vero intanto Andrea ha fatto una piccola operazione sul DAX con che mi ha chiuso adesso ha chiuso con questo strumento guarda che figo questo questo è praticamente un bracket ovvero con un solo click ti mette a mercato tre posizioni perché diversa entità con diverso stop loss e diversi target prove la cosa bella di questo è che ha un auto break even che ho messo prima non so se mi siete resi conto ma io ho detto alla macchina nel momento in cui tocchi il secondo target imposta il break even ok vai a mettere in automatico il break even infatti che cosa ha fatto le operazioni a ok vedete queste due operazioni chiuse a target perché qui il target si può impostare vedete se adesso andrò a cliccare buy o sell ad esempio buy ok lui metterà tre posizioni tutte con stop loss a 5 pip ok la prima però con un target a 3 la seconda un target a 6 e la terza un target a 12 in automatico vedete lui ha piazzato quelli che sono gli ordini con le quantità con un solo clic e la cosa bella è questa praticamente ognuno col suo target ognuno col suo stop loss in realtà i stop loss potrei anche cambiarli e fare un effetto a piramide che quando scende scala quando sale incrementa ok e appunto la cosa bella è il break even automatico se lui adesso andrà a toccare o il primo o il secondo target perché sarò io a dire quando andare a mettere il break even automatico una volta toccato il target in automatico si imposta questo è ottimo per lo scalping questo è davvero davvero ottimo per lo scalping ci sono degli scalper in linea ci sono ma sì qualcuno sì chi non scalpa il DAX dai anche per gioco un po' così anche con i micro lotti cioè il DAX è secondo me uno di quegli strumenti più dinamici più volatili che offre opportunità reversal molto interessanti il DAX è uno strumento in cui provare e dico provare a comprare i minimi a vendere i massimi in genere porta dei risultati interessanti anche in ottica intraday multiday eccetera io mi trovo bene con questo tipo di approccio sul DAX no anche perché comunque sia al di là di tutto al di là delle fasi laterali il DAX 100 punti li fa in un giorno quindi alla fin fine abbiamo veramente margine per poter andare ad operare bisogna sempre fissarsi sulla volatilità media la volatilità media è di circa 150 160 punti e anche se noi riuscissimo a prenderne 60 quindi lavorare magari con rapporti fissi 20-60 20 punti di stop loss 60 di take profit comunque sia ci siamo fatti già una buona parte della giornata ovviamente poi costruiamo il mese sostanzialmente a proposito di volatilità media il mercato ha appena toccato quelli che erano i livelli attesi di volatilità questo era il range la volatilità attesa per la giornata di oggi ha appena preso il range della giornata giornaliera su base settimanale invece vediamo ecco questa è la volatilità il mercato si trova all'interno di un range ribassista e su base settimanale 11.5 potrebbe essere il possibile possibile su base mensile invece siamo al di sopra qui questa potrebbe anche essere una settimana di ribasso di correzione secondo me è interessante vedere comunque come le borse siano ancora tutte positive secondo me queste condizioni queste situazioni sono da non non trascurare vi ricordo che le borse in questo momento sono tutte positive c'è positività c'è diciamo un momento diciamo così abbastanza interessante addirittura alcuni strumenti hanno già fatto più 12% più 11% si sono mosse parecchio e secondo me appunto siccome si sono mosse molto all'interno del primo trimestre secondo me si potrebbe anche iniziare a verificare un pochettino di correzione almeno questa è l'aspettativa di fondo di base presente in mercato in questo momento sì poi anche perché ad esempio abbiamo una situazione anche piuttosto interessante da poter comunque sia valutare questa questa settimana qui perché comunque tra la Fed e non farm per holes e il finale di questo di questa lunga trattativa tra Cina e Stati Uniti effettivamente poi da lì capiremo un attimino l'evoluzione di quello di quello che sarà un po' il mercato e particolarmente sorprendente è stata anche la performance comunque del nostro mercato italiano e questa settimana oggi ci sono Amplifone e Campari con le trimestrali poi giovedì c'è Ubi e Atlantia che un po' vanno a a chiudere un po' quasi il ciclo delle trimestrali in in Italia che comunque sia sono state trimestrali positive dal mio punto di vista perché comunque abbiamo visto Moncler che ha fatto un esploit incredibile Campari stesso che comunque sia sta avendo ottimi risultati nel mercato statunitense con le vendite quindi il mercato italiano il Fuzzimeb che dopo aver raggiunto i 20.800 secondo me potrebbe ancora avere margine per poter per poter spingere il rialzo alla faccia un po' di chi dice che l'Italia è recessione e quant'altro insomma quindi sono sempre dati quando comunque ci sono queste pubblicazioni da prendere un po' con le molle perché comunque poi il mercato li può scontare in un'altra in una forma completamente opposta da quella che in realtà pensavamo insomma sono perfettamente d'accordo perfettamente d'accordo c'è Silvia che dice il DAX in scalping solo in demo è come guidare una Ferrari e in effetti il DAX è parecchio però si è affrontato magari con sites più piccole tipo i microlotti quelle cose lì però si è molto molto volatile lo strumento non si fa pregare in termini di volatilità soprattutto quando va a fare movimenti molto molto diciamo così volatili ok guardalo guardalo a 5 minuti scusa Fabio ah eccolo lì ce l'hai volevo volevo muovermi un secondo su questo profilo che è il profilo volatilità e andiamo a vedere questo vi faccio vedere una cosa carina interessante andiamo a prendere il DAX quindi Germany 30 ok vedete queste candele queste segnalate di verde o di rosso sono praticamente i livelli vengono evidenziate le candele che hanno più volatilità in assoluto in questo momento il DAX in questa giornata ha fatto 29 candele rialziste quindi verdi e 23 candele rialziste la candela più volatile è stata una candela rialzista che è questa segnalata di verde ok come vedete una candela di 29 la candela invece più volatile e ribassista è una candela da 25 punti ok ed è questa qua segnalata vedete hanno dato il via alla volatilità rialziste poi si sono andati a rimangiare un po' tutto il movimento tutto l'impulso il DAX è molto solito a questi diciamo così a questi reversa appena sfoga tutto il movimento poi si ritrae e appunto per questo è uno di quegli strumenti preferiti per lo scalping perché perché in genere tende sempre a fare dei swing di ritorno dopo un eccesso ok c'è sempre un po' di correzione sullo strumento difatti appunto chi tratta prevalentemente il DAX va a lavorare su quelli che sono i massimi 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 minimi 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 per cercare di prendere un pochettino la correzione dello strumento il respiro dello strumento eh sì assolutamente poi adesso si sta muovendo in una fase laterale proprio molto importante a livello proprio di più ampio respiro a livello orario e secondo me è l'ideale in questo momento per approfittare questi micro micro movimenti ci sono non ti sembra Andrea una possibile flettia ovviamente guarda il problema diciamo del DAX che alla fine anche quando si muove poco si muove quindi anche se magari anziché in scalping anziché fare un 20-60 facciamo un 5-30 o un 10-30 in scalping tranquillamente il DAX li fa senza alcun problema li fa in questo momento ha un range piuttosto interessante di circa 100 140 punti dall'ultimo minimo significativo all'ultimo massimo significativo siamo leggermente un po' più vicini al minimo siamo rispetto qualcosina qualcosina siamo quasi in zona in zona buy siamo a livello intraday e quindi secondo me vale sempre la pena guardarlo e vale sempre la pena tradarlo il DAX ovviamente dovete calibrare bene qui è fondamentale la size è fondamentale non vi fate problemi ad esempio a lavorare con Alba ha i microlotti sugli indici vero? sì 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 Alba ha i microlotti sugli indici quindi un microlotto vuol dire che potete lavorare anche con 0,25 al punto vuol dire quindi veramente il rischio è molto molto basso in questo caso qui personalmente per avere anche a livello psicologico un ritorno diciamo più 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 interessante potete anche lavorare con uno 0,04 che è un euro al punto sostanzialmente quindi così almeno avete ad esempio sapete che rischiate magari in un trade di 10 euro e ne potete guadagnare 30 sostanzialmente questo già vi porta a semplificare le cose insomma Andrea dai adesso ti faccio qualche domanda piccante e poi salutiamo i nostri amici perché è già ora di pranzo dovete sapere che Andrea ha lavorato per moltissimo tempo appunto è in questo settore da moltissimo tempo e lui lavorava proprio dietro il banco giusto Andrea vogliamo dare qualche consiglio agli amici per cercare di possibilmente sfuggire a quella percentuale del 95% dei trader che perde denaro una bella domanda guarda io ti posso dire in tutti gli anni di esperienza tu che ne hai viste di tutti i colori in tutti gli anni quali sono le cose da fare e le cose da non fare guarda allora la prima cosa secondo me che ho notato è proprio una questione di atteggiamento cioè atteggiamento vuol dire molti partono già sconfitti cioè partono già con la mentalità eh ma è difficile ok allora se è difficile se parti così non lo fare punto e quindi ho notato diciamo tutti aspetti psicologici più che altro il secondo atteggiamento è la fretta tutti quanti che pensano che apro il conto e in una settimana faccio mille euro Gordon Gecko pim pum pam quando per fare mille euro magari io sono magari siete degli impiegati o comunque sia diciamo la persona media per fare mille euro ci mette mediamente dalle due settimane a un mese sostanzialmente lavorando 40 ore al giorno alla settimana e poi una terza cosa che ho visto veramente fare è un atteggiamento la testardaggine cioè molte volte io nei miei video lo dico sempre cioè io adesso posso andare long però se il DAX mi rompe il ribasso cioè non è che devo essere testardo nel continuare con i miei long certo mi giro short mi giro cioè quindi è la testardaggine nel dire non voglio assumere la perdita e sono convinto che il mercato sia long o sia short e questo guarda è un fattore che è comune veramente al 90% dei clienti sì quindi ecco perché bisogna avere dei livelli oggettivi quanto più possibili oggettivi io su questo su questo ne ho fatto un grande diciamo così un grande cavallo di battaglia perché se riusciamo ad avere degli strumenti che in modo molto oggettivo riescono a darci una panoramica di ciò che sta accadendo ecco che tutto sommato le possibilità dovrebbero passare dall'altra parte oggi abbiamo un mercato con un più 0,21% come vedete io sto continuando ad insistere sull'ong insistere non è che stiamo tradando però sto cercando soltanto opportunità long perché perché questo mercato su base giornaliera è positivo su base settimanale no perde lo 0,5 su base mensile guadagna lo 0,42 ma su base giornaliera è ancora positivo quindi finché questo mercato sarà positivo con un rendimento positivo la cosa migliore da fare è cercare operazioni di tipo rialzista poi ovvio magari non con lo stop loss sotto il muso qui così lo stop loss un po' più flessibile più è però in questo momento l'atteggiamento di cerca di opportunità rialzo è assolutamente coerente con ciò che sta facendo il mercato detto bene Andrea spesso e volentieri ci intestardiamo sulla direzione sulla cosa iniziamo a fare pregging invece che trading poi guarda Fabio la cosa un'altra cosa che veramente mi fa proprio che mi è rimasta impresso in tutti questi anni parlando con clienti che magari avevano 50 euro sul conto 50.000 euro sul conto alla fine tutti ti dicono la stessa cosa tutti quanti no ma perché non c'è quell'indicatore specifico e io personalmente rispondo sempre ma guarda non è un indicatore specifico che ti fa fare un rendimento o no cioè l'indicatore come tanti altri strumenti ti permettono di fare di darti una buona preparazione però non è quello che ti fa che ti fa poi guadagnare o meno come non sono gli spread perché ad esempio io posso avere sul DAX uno spread di 0.8 o uno spread di 1 ma alla fin fine per un'operatività di intraday con la volatilità che è il DAX ma cambia veramente poco cambia quindi non andate alla ricerca del super spread o della persona che magari vi promette rendimenti o di cose chissà quanto difficili cioè andare a lavorare ad esempio sull'euro-dollaro è come se aprendo magari un mini-lotto facciamo un'ipotesi è come se io vado in banca chiedo alla mia banca di aprirmi un conto in dollari e ci verso sopra al cambio 10.000 euro state facendo esattamente la stessa cosa qui solo che andate a lavorare con margine con una piattaforma professionale e con la possibilità di spaziare su più strumenti quindi questi sono un po' i tratti i vari il ritratto delle varie cose più comuni che mi vengono richieste e che poi portano purtroppo il trader a delle perdite insomma è vero la verità l'avidità l'avidità purtroppo è sempre quello il motivo il mio modente principale il fatto di comunque avere un'aspettativa alta magari in base al capitale che si ha depositato sul conto magari si mettono un paio di migliaia di euro e si crede che si possa vivere non è così queste sono cose che ormai trite e ripritte però lo sapete bene nel senso io ho sempre ho sempre consigliato per iniziare a fare i trading in maniera un pochettino più seria con qualche aspettativa diciamo così in più di avere almeno 20.000 euro sul conto già con 20.000 euro sul conto sì o si è bravi 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 e si può permettere di tenere una bassissima capitalizzazione sul conto ovvero soltanto il margin necessario per operare oppure per operare con un po' più di tranquillità nel momento in cui non si hanno delle abilità particolarmente spiccate eccetera meglio avere qualche capitale in più in modo da poter essere flessibile con lo stop loss con la size possibilmente usare le re inverse costruire una posizione avere un approccio un po' meno speculativo che ovviamente porterà delle percentuali inferiori ma sono comunque percentuali di rendimento ricordatevi che una banca se vi da bene vi da il 2% l'anno e io credo che riuscire a fare percentuali superiori rispetto a quello che ci dà una banca non sia poi così impossibile la gente poi si fa male invece perché perché vuole di più non vuole il 2% vuole il 2% all'ora e quindi questo purtroppo è poi la condizione che rende questo impossibile Andrea bene fatevi poi supportare dagli amici di Albo perché sono bravi sono competenti e loro vi possono dare realmente una mano e vi consiglio di registrare un conto demo di provarlo di parlare con i ragazzi del desk perché vi posso assicurare che trovare persone così disponibili trasparenti e a farvi crescere nel vostro interesse è sicuramente un punto un punto importante quindi scaricatevi una demo con Albo e vedrete che vi troverete bene oggi la differenza tra i centomila broker che ci sono in giro secondo me la fa proprio la trasparenza e il supporto che vi viene dato insomma ragazzi questa è la pagina webinar se volete potete registrare vi date un'occhiata è bene è bene conoscere poi vedo anche relatori di un certo tipo c'è Androvandi c'è Lapidari questi si possono rivedere giusto? sono webinar sì sì sono webinar che si possono rivedere sì 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 addirittura sul canale youtube bene 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 ok Andrea grazie mille sei stato gentilissimo ci vediamo prossimamente perché lo sai questi incontri poi sono ciclici ok quindi ci rivedremo prossimamente e magari ti vedrò finalmente con MQL Suite ok che mi apri qualche trade perché questi incontri devono essere operativi 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 assolutamente sì assolutamente sì Fabio alla prossima la prossima diretta sicuramente saremo saremo al top saremo perfetto perfetto grazie mille Andrea grazie a te ciao buon lavoro buona giornata ciao ciao ok ragazzi io direi che siamo posti così si è fatta anche l'ora di pranzo ci aggiorniamo domani domani verso le 11 e mezza così andiamo a vedere qualche altra cosina perché sta arrivando la nuova versione ok la nuova versione è la versione 4 ci sono stati diversi aggiornamenti diverse migliorie eccetera eccetera quindi vi farò vedere alcune cose nuove interessanti che riguardano sempre MQL Suite va bene ok ragazzi buona continuazione buona giornata a tutti ciao 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 Grazie a tutti.